Buongiorno ragazzi, oggi vi parlerò del primo solido di rotazione, ossia del cilindro, ma prima di iniziare ci terrei a rivedere un attimino la classificazione dei solidi. I solidi sono divisi in due grossi sottinsiemi, quello dei poliedri e quelli dei solidi di rotazione. I poliedri sono solidi, le cui facce sono tutti poligoni. Noi abbiamo iniziato ad affrontare il discorso sui prismi per poi passare al parallelepipedo al cubo e tralasciare per ora le piramidi. Oggi invece affronteremo il discorso sui solidi di rotazione, detti anche solidi a superficie curva. Sono essenzialmente quattro, ossia il cilindro, il cono, il tronco di cono e la sfera. Il cilindro viene definito solido di rotazione perché possiamo immaginare una rotazione completa, cioè di 360 gradi, di un rettangolo attorno a una delle due dimensioni, ad esempio attorno a questa sua altezza. Ruotando viene appunto descritto questo solido superficie curva, detto cilindro. In particolare il lato del rettangolo attorno a cui avviene la rotazione, ossia l'altezza, viene anche definita asse di rotazione, mentre la dimensione che compie tutta la rotazione definita generatrice, la base invece del rettangolo, verrà chiamato e rappresenterà il raggio di base. In questo disegno vediamo invece lo sviluppo di un cilindro, cioè immaginiamo di aver smontato il nostro solido, e questo è molto utile per capire che la superficie laterale di questo solido nient'altro è che un rettangolo, avente come base la circonferenza, che cioè 2πr o diametro per π, mentre l'altra dimensione è l'altezza del solido. Se poi alla superficie laterale aggiungiamo l'area dei due cerchi, in questo modo otteniamo la superficie totale. Ed ecco alcune formule, ma la premessa è sempre il mio concetto, che è quello di cercare di inserire meno formule possibile, perché la formula richiede memoria e tutto ciò che è memoria può essere dimenticato nel tempo. Allora io invito sempre i miei ragazzi a utilizzare ciò che già conoscono. Loro conoscono già perfettamente le formule per i prismi, e le utilizziamo anche per il cilindro. Ad esempio, per calcolare la superficie laterale indicata con AL, sappiamo che dobbiamo fare il perimetro di base per l'altezza. La differenza è che questa volta il perimetro di base, come dicevo prima, è la circonferenza. Dobbiamo quindi mettere la circonferenza 2πr per l'altezza. Da qui possiamo ricavare due formule inverse, quelle per trovare l'altezza, facendo superficie laterale diviso perimetro di base, e solo a questo punto ci ricorderemo della formula della circonferenza, oppure l'altra formula è quella che ci permette di trovare la circonferenza, cioè il perimetro di base facendo superficie laterale diviso altezza. Superficie laterale diviso altezza. Se poi dividiamo per 2π, allora avremo il raggio di base. Per conoscere invece la superficie totale sappiamo che alla laterale dobbiamo aggiungere due volte l'area di base, ricordandoci questa volta la formula dell'area del cerchio, che sarà π per r alla seconda. Anche qui possiamo ricavare le formule inverse. L'area laterale basterà trovare la totale, sottrarre due volte l'area di base, o per trovare l'area di base alla totale togliamo la laterale e poi divideremo per due. Ed infine le formule del volume. Area base per altezza, in questo caso l'area base era la seconda π per h, poi potremo ricavare l'area base, volume diviso altezza, o l'altezza, volume diviso area base. Il mio consiglio appunto è quello di crearvi un formulario da inserire nel libro, da utilizzare sempre tutte le volte che affronterete un problema, anzi sarebbe utilissimo, oltre che i semplici termini numerici, lavorare prima con le formule e poi sostituire i valori numerici, solo così facendo le formule pian pianino diventeranno veramente vostre. E senza accorgervi, solo esclusivamente col mero esercizio, vi ritroverete a conoscere perfettamente tutto quanto. Spero di essere stata chiara e vi do l'appuntamento alla prossima lezione, il cui argomento sarà piramidi.